Eccoci bentornati su Go Games, siamo su Dragos Dogma 2 e in questo video andremo a fare un'altra missione secondaria. Prima vi ricordo che sul canale trovate la playlist con tutte le guide di Dragos Dogma 2, linkate in descrizione e nel primo commento. Detto ciò, una volta che siamo arrivati qui a Bactal, possiamo venire qui al negozio di Isaac e una volta che siamo arrivati qui al negozio di Isaac, basterà parlare con lui, lui ci dirà che ha dei problemi, insomma, morale della favola, vuole una mela cotogna matura. Le mele cotogne sono dei frutti gialli che sicuramente avrete trovato in giro, ma insomma specialmente in particolar modo li trovate in giro, in questa zona qui, più o meno tutta questa zona li trovate, quindi fatevi un giretto fuori, raccogliete una mela, dopodiché vi sedete tre giorni su una panchina, la fate maturare e gliela date. Lì la quest poi proseguirà, tornate qualche giorno dopo e troverete Isaac con la benda all'occhio perché inizialmente non ce l'avrà e lui vi dirà che comunque ha bisogno del secondo volume del libro che sta leggendo e vi chiederà di prenderglielo, vi dirà che si trova in un qualche negozio a Vermouth e che dal momento che lui non si può spostare se gli facciamo questo favore, quindi sì, gli faremo questo favore. La missione si chiama un'ambizione miope, quindi ora dobbiamo trovare il secondo grimorio. Per trovare il secondo grimorio ci dobbiamo spostare in questo punto qui, usiamo una pietra del teletrasporto e ci spostiamo qui alla stazione di posta. Se non avete lasciato qui un cristallo del teletrasporto ci dovete venire a piedi, insomma vedete voi, oppure con il carro, credo ci sia il carro da Bakhtal alla stazione di posta. Quindi ci spostiamo qui, arrivati alla stazione di posta ci spostiamo e andiamo da lui nel negozio dei tesori di Ibrahim, ormai è il nostro amicone per cui ci dirigiamo da lui, da lui possiamo acquistare il libro, quindi andiamo su compra e qui sotto come potete vedere sulla trasmigrazione delle anime 2 lo acquistiamo da lui, ma prima di andarlo a consegnare vi consiglio di fare ciò, andate a commissionare un'imitazione, se volete un happy ending gli date la copia, se volete un bad ending gli date quello originale, fate un po' voi, vedete voi come volete fare, io vi mostro tutti e due i finali così che voi possiate decidere quale dei due fare, quali preferite, quindi andiamo a commissionare una copia, sacco dei sordi sto ladro, ovviamente ci dobbiamo riposare su una panchina per 24 ore così lui può preparare la nostra copia, andiamo a ritirare l'imitazione e abbiamo sulla trasmissione delle anime 2, ora ci rispostiamo a Bakhtal dal venditore, siamo arrivati e prima di fare ciò ovviamente salvo dormendo a una locanda, quindi tutte le volte mi raccomando dormite a una locanda, rimortacci tua e salvate, ecco perché da te non ce l'ho mai venuta, ma fate un'altra locanda, mi costi un po' troppo chico, abbi pazienza, ok ho salvato possiamo continuare, ma signora lo stiamo facendo, e infatti come potete vedere la signora ci ha chiesto di non dargli il grimorio, ora vi faccio vedere prima cosa succede quando gli diamo il vero grimorio, dopo vi mostro cosa succede a dargli quello falso, perché io comunque manterrò la versione di dargli quello falso, lo voglio aiutare, non lo voglio distruggere Borello, quindi ci parliamo e gli andiamo a dare quello vero, quindi sulla trasmigrazione delle anime 2, ora lo dobbiamo seguire, quindi lo seguiamo e ci vediamo direttamente al punto perché il signorotto qui è molto lento, ed eccoci qui. no, ovviamente non e ora vi mostro il finale buono. come avete visto nel finale cattivo, lui uccide praticamente moglie e figlia, sì otteniamo un anello, ma è un anello che sinceramente anche meno non ci serve, per cui vi mostro il finale buono. Tieni ciccio sulla trasmissione delle anime, consegniamo. E se vediamo sempre là, perché è sempre lento. Oh, ci siamo, fai, faccia vedere questa mega magia, tu via, ah, non succede niente. Yeah, mega magia, eh già non è cambiato nulla, eh che devi fare? Ti perdonano, ti perdonano, sei tutti gioiosi e felici, tutti vivi e vegeti, non muore nessuno, bravo, lavora e smettila di fare cosa. Prendiamo 16.000 monete piuttosto che l'anello, per cui gioveni io direi che questo è il finale migliore tra i due. E poi scegliete voi, stavolta ve li abbiamo mostrati tutti e due, così per completezza. E niente, come al solito, grazie mille e alla prossima.